La serata di ballo latino-americano sfocia in maxi rissa davanti alla discoteca. Sette persone arrestate, notte movimentata a Motta di Costa Bissara, dove ieri attorno alle 4 è scoppiato il putiferio. Pare che tutto sia iniziato da un alterco tra due uomini di origine sudamericana all'interno del disco pub Tucandela in via Leonardo da Vinci. La lite sarebbe poi degenerata, tanto che i titolari, padre e figlio del padovano, hanno invitato i protagonisti a uscire dal locale e all'esterno c'è stata la deflagrazione, dalle parole alle mani, una quarantina alle persone coinvolte, tanto che uno degli avventori ha chiamato i carabinieri. Massiccio l'intervento dei militari, giunti con quattro pattuglie da Vicenza, Tiene, Dueville e Camisano. A loro arriva un fuggi-fuggi generale. Episodi come questi vanno assolutamente affrontati con la massima determinazione e quindi i malintenzionati sappiano che la risposta delle forze di polizia sarà sempre assolutamente ferma. Gli arrestati, quattro domenicani, due colombiani, uno del Burkina Faso, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti quattro a Vicenza, due a Venezia, uno a Possagno, sono stati trovati nascosti dietro al bancone della discoteca, dove si erano rifugiati pensando di sfuggire ai carabinieri. Due di loro nella rissa sono rimasti feriti, ingenti i danni all'esterno del locale. E intanto, visto il grado di alcol riscontrato nel sangue degli arrestati, sono in via di valutazione le responsabilità dei titolari del locale. Queste persone avevano un tasso alcolico molto elevato, quindi adesso approfondiremo se ci sono eventuali responsabilità da parte del gestore del locale.